Alvia il nuovo corso di laurea in nuovi turismi, un corso che ha come obiettivo la formazione di laureate e laureate con conoscenze e competenze nei diversi campi delle scienze del turismo e del suo impatto sullo sviluppo sociale, economico e culturale. L'offerta formativa è stata presentata nella giornata di Open Day rivolta all'orientamento in ingresso alle lauree triennale, magistrale a ciclo unico durante l'evento organizzato presso l'atrio del Palazzo Ateneo. Questo nuovo corso di laurea è stato fortemente voluto dal direttore del Dipartimento Dirium, il professor Paolo Ponzio, e dall'intero corpo docente perché andava a coprire un vuoto nell'offerta formativa dell'Università di Bari che è appunto quello della formazione nell'ambito del turismo in un'università importante che insiste su un territorio pugliese dove sappiamo che lo sviluppo turistico è una delle principali leve dello sviluppo futuro e della crescita anche dal punto di vista economico. La parola nuovi turismi ha un significato ben preciso perché in un dipartimento che si chiama ricerca e innovazione umanistica noi abbiamo un occhio particolarmente attento all'innovazione e quindi noi ci concentreremo sui nuovi turismi e parliamo appunto al plurale dove il concetto di nuovo sta nel fatto che noi metteremo l'accento sulle nuove tecnologie come stanno cambiando il mondo del turismo, quindi penso a tutto il sistema delle agenzie di viaggio online, penso per esempio a tutto il sistema dei viaggi virtuali, della promozione in realtà virtuale dei vari luoghi, ma penso anche al sistema dell'intelligenza artificiale. Grazie a tutti.